La Chiesa entrata in Quaresima vive un tempo di riflessione deserto, un momento rigenerativo che porta a focalizzarsi sui prossimi appuntamenti. Primo fra tutti, la seconda sessione della XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo, che si svolgerà in ottobre, dal 2 al 27. A tema, ancora una volta, la sinodalità articolata su tre punti, comunione, partecipazione e missione. I padri sinodali arriveranno da tutto il mondo e prima di ritrovarsi nell'aula Paolo VI, vivranno giorni di ritiro spirituale dal 30 settembre al 1 ottobre, come già accaduto lo scorso autunno. In un chirografo, Papa Francesco ha stabilito la costituzione di gruppi di studio per approfondire questioni che sono emerse nella sessione precedente. Ad occuparsene di castari della Curia Romana, coordinati dalla Segreteria Generale del Sinodo, in una dinamica di ascolto e reciprocità per mettersi al servizio della missione del popolo di Dio. Insomma, la Chiesa continua il suo cammino per vivere la sinodalità a tutti i livelli, e lo fa studiando e approfondendo sul piano teologico, canonistico e pastorale tutti i punti più critici definiti dall'Assemblea. L'aggiornamento di alcune norme canoniche, la formazione dei sacerdoti, le relazioni tra bescovi e religiosi e infine la ricerca teologica e pastorale sul diaconato.